Nel prossimo video vedremo la monachella del deserto, The Desert Weather, diffuso tra Europa, Nord Africa e Asia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS